benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere come possiamo fare le mappe concettuali le linee del tempo e anche dei diagrammi di flusso per capire come poter organizzare al meglio delle lezioni sia in dad ma anche in classe in questo caso oppure soprattutto in una didattica digitale integrata useremo un sito web e useremo presentazioni scoprendo le linee del tempo e la possibilità di creare dei diagrammi su questa app di google ma adesso non pentiamo a molto tempo e andiamo a vedere insieme di che cosa stiamo parlando allora eccoci qui il primo sito che vi propongo e mindhomo.com dovete scrivere sulla browser mindhomo.com vi porterà questa pagina la prima cosa che dovete fare è iscrivervi qui in alto a destra dove c'è iscrizione e iscrivervi con la mail ovviamente della g suite e vi riconoscerà anche come mail di google dovete iscrivervi ovviamente come docenti io l'ho già fatto per questo adesso andiamo direttamente all'accesso e vedete che mi dà l'accesso con la mail di google procedo con la mia mail scolastica e mi fa accedere direttamente a una maschera dove vedete che ci sono una serie infinite di mappe mentali mappe concettuali schemi diagrammi e molto altro già preconfezionati nel senso che hanno già un albero predefinito al quale noi possiamo andare a fare un completamento di questo è molto utile per noi docenti abbrevia un po il tempo della composizione delle mappe quindi ritengo che sia utile usare anche questi modelli nulla però ci vieda di poter creare ex novo uno schema o una mappa se infatti clicchiamo sulla x qui in alto a destra parte da questa schermata dove poi qui in questa schermata verranno raccolte tutte le vostre mappe che creerete vedete che in alto qui sulla sinistra avete sia crea che importa una mappa già fatta cosa molto importante le mappe create con ma in domo possono essere interattive adesso andremo a vederlo che significa significa che possono avere i link possono avere le foto possono avere soprattutto i video degli argomenti che stiamo trattando però devono essere aperte con ma in domo quindi ma in domo offre un'app offre la possibilità addirittura di scaricare il software per il pc quindi quando noi apriamo una mappa con ma in domo questa deve essere aperta assolutamente con lo specifico programma quindi ai ragazzi se volete dare delle mappe concettuali interattivi dovete dirgli di scaricare l'app su portatili o da pc il programma di ma in domo andiamo ad aprirne una per capire come possiamo operare e vedete che c'è lo schema centrale con un triangolino che adesso andiamo a vedere che cos'è e sulla sinistra tutto quello che si può mettere all'interno della nostra mappa abbiamo il testo abbiamo i link le foto e modi con i video e possiamo registrare anche un audio con la nostra voce che spiega quindi la mappa concettuale stessa o le parti della mappa concettuale che riteniamo più opportune andando sul triangolino qui in alto a destra di questo schema vedete che abbiamo inserisce argomento sotto argomento e qui tutta un'altra serie di possibilità la data di inizio la data di fine possiamo operare come vogliamo possiamo copio incollare ma soprattutto andiamo a vedere che cos'è sia l'argomento che ci crea quindi il ramo principale ma la possibilità di creare anche sotto argomenti vedete al ramo secondario che abbiamo creato nulla ci vede che se abbiamo sbagliato qualcosa come nell'interattività oggi letteralmente prendiamo uno di questi e lo trasciniamo dove vogliamo ok vedete che trasporta anche il sotto argomento a meno che non siamo noi stessi che diciamo che questo sotto argomento non deve essere legato con il ramo secondario ma direttamente con lo schema centrale qui possiamo andare ad aggiungere quello che vogliamo noi se vogliamo aggiungere un video vi dà la possibilità di aggiungere un video da web o addirittura da youtube tramite url o vimeo stesso tramite url quindi possiamo andando a cercare l'argomento vogliamo mettere prima guerra mondiale vedete che vi troverà tutti i video di youtube della prima guerra mondiale e possiamo andare ad allegare se già abbiamo visto il video abbiamo cercato il video su youtube sappiamo di che cosa si tratta magari possiamo usare big nomi ed ecco qui che abbiamo i big nomi riguardanti il periodo storico ok quindi a questo punto lui mi ha aggiunto il video che ho scelto e cioè in questo caso l'assassinio di francesco ferdinando da parte di capito princip e vedete che è interattivo per essere però visto vi ricordo che i vostri alunni dovranno scaricare per forza l'app ma in domo altrimenti quando andrete ad esportare questo file qui in alto a destra dove c'è il condivido possiamo andare a condividere la nostra mappa concettuale se facciamo condividi ci compare una nuova schermata vedete che c'è la possibilità di inserire la password che però per gli utenti premium ma abbiamo anche la possibilità di condividere direttamente sulla classroom la nostra mappa creata andiamo a modificare ovviamente l'accesso a questa mappa qui dove c'è scritto mappa privata dobbiamo andare su modifica e cambiare la visualizzazione vedete che in questo momento non attivo cioè nessuno può avere accesso a questo link possiamo renderlo attivo a tutti quindi pubblicarlo su web o renderlo attivo solo a coloro che saranno in possesso del link cosa che ci interessa di più se parliamo di classroom andiamo a salvare l'impostazione dopodiché non ci resta che cliccare sull'icona della classroom e ci aprirà una finestra la quale noi andremo a scegliere la nostra classe in questo caso nostra classe di prova e possiamo caricarlo come compito magari creiamo una mappa concettuale vuota di completamento per i ragazzi se hanno sempre l'app ma in domo oppure andiamo a mettere semplicemente del materiale come facciamo adesso in questo caso vedete che sta allegando il link della mappa io la pubblico e poi andiamo a vedere sulla classroom che cosa è venuto fuori andiamo sui lavori del corso e vedremo che c'è la mappa mentale in questo caso come schema pubblicata andiamo ad aprirla e me la apre ovviamente come link di ma in domo adesso andiamo a vedere come operare invece creare una mappa concettuale anche una linea del tempo ma anche altre cose su presentazioni di google che in questo caso si presta benissimo a questo per creare una mappa concettuale da zero su presentazioni di google useremo quello che abbiamo sempre usato in questo caso le forme di presentazioni e cioè qui dove abbiamo la forma col cerchio e col quadratino oppure andando su inserisci forma e scegliamo quello che ci serve andiamo a prendere una forma classica al centro metteremo il nostro argomento cliccando all'interno della forma che abbiamo appena creato creiamo il testo e così magari lo centriamo ok e abbiamo già il primo riquadro della nostra mappa concettuale adesso andiamo a creare o le linee di collegamento o addirittura le frecce sempre utilizzando o inserisci forme ok dove abbiamo direttamente le frecce vedete che abbiamo diversi tipi di frecce anche a livello concettuale che possiamo usare oppure sul barra in alto abbiamo direttamente le linee e possiamo mettere anche qui linee frecce o linee curve in questo caso andiamo a tirare una linea che ci può interessare e magari andiamo a mettere un video del cause della prima guerra mondiale a questo punto andremo ancora una volta su inserisci andiamo su video e possiamo fare la ricerca direttamente su google oppure tramite url cioè il link del video se già lo possediamo andiamo a mettere cause prima guerra mondiale e vedete che vi aprirà la ricerca come se fosse automaticamente su google ok dopo che noi abbiamo selezionato il video questo comparirà dopo qualche secondo sul nostro sulla nostra rappresentazione noi andiamo a ridimensionarlo con i quadratini dello spazio del video vedete qui in basso questi quadratini in blu e poi lo trasportiamo vicino a quello che è la freccia che avevamo già predisposto vedete che si inizia a creare una mappa di un certo tipo e soprattutto che può essere poi distesa anche su più slide e può essere anche una mappa di come dicevamo prima di completamento per i vostri alunni e quindi può essere addirittura assegnata come compito questa è la prima possibilità che ci offre presentazioni andiamo ad aggiungere una diapositiva togliamo il testo e vediamo invece come creare una linea del tempo se noi andiamo sempre in alto in inserisci tra le varie opportunità abbiamo inserisci diagramma andate su inserisci diagramma e sulla destra vi si aprirà una schermata con possibilità di inserire delle griglie già predisposte delle gerarchie già predisposte una cronologia i processi le relazioni e i cicli noi in questo caso se vogliamo costruire una linea del tempo andiamo su cronologia vedete che vi aprirà tutta una serie di grafici per le linee del tempo grafici che noi andremo a scegliere da alcuni molto semplici ad altri invece molto più complessi quello che è importante soprattutto se vorreste assegnare una linea del tempo come compito di completamento mi raccomando scegliete prima quanti spazi di quanti spazi si ha bisogno per questa linea del tempo quindi se noi ne scegliamo cinque scegliamo il colore che vogliamo dare a questa linea del tempo e poi ne scegliamo una vedete che automaticamente ve la ripropone sul sulla vostra slide questa linea del tempo ovviamente può essere completata sia scrivendo le date di cui abbiamo bisogno sia il testo stesso all'interno e in corrispondenza della data questa è un'opportunità veramente interessante io l'ho usata con gli alunni e devo dire che si sono molto divertiti a creare le linee del tempo cercando di mettere le date che secondo loro erano più importanti negli eventi che abbiamo fatto in classe ultima possibilità che andiamo a vedere insieme è quella di creare delle mappe mentali già predisposte come gerarchia lo abbiamo visto prima quindi creiamo una nuova slide andiamo sempre su inserisci diagramma chiudendo magari andiamo su inserisci diagramma e andiamo su gerarchia questa volta vedete che ci aprirà delle vere e proprie mappe mentali possiamo sceglierle sia a cascata verticale ma ce ne sono anche in orizzontale anche qui possiamo scegliere i livelli delle nostre mappe vedete che adesso abbiamo tre livelli possiamo aumentare questi livelli fino a 5 e diventano molto importanti e possiamo poi modificarli ne scegliamo uno vedete che abbiamo un schema già predefinito che possiamo andare a completare questo è molto importante sia per quanto riguarda la didattica a distanza ma anche in classe e anche per la didattica digitale integrata l'uso che ne farete spero che sia il più fantasioso possibile questo lo lascio a voi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale perché sono sempre in arrivo tante novità grazie e arrivederci grazie